Napoli, 28 dicembre 1833. A pochi giorni di intervallo sono stato a visitare due resti di antiche rovine, le quali produssero in me un effetto assai diverso l'una dall'altro, il teatro di Ercolano e le catacombe di San Gennaro. Nel teatro di Ercolano tutto è desolazione, la rimembranza stessa degli spettacoli e delle feste, onde quel luogo fu già lieto, concorre a fare più grave il senso di terrore che invade l'anima sotto le oscure volte della lava distrugitrice. Nel tremendo suo passaggio questa si è improntata a tutte le squisitezze delle arti e del lusso e le conserva come una maschera che sia stata presa sul volto di una persona che ride. Io non so spiegarvi come, ma sembravami di vedere, di, non so, sentire le risa convulse di qualche sciagurato inghiottito dall'immane fiumana, o fremevami lo spirito a questo pensiero. Quando ecco doloroso contrasto, odesi cigolare un cocchio nella via di Portici che passa sopra quelle ruine. E io, che mi credevo già nell'oblio di ogni cosa, sono ricondotta alla triste realtà della vita. In questa tomba, già teatro, non è possibile il conforto di un pensiero pio che temperi la ricordanza dello strazio e delle pene sofferte. Ieri siamo stati alle catacombe di San Gennaro. Le vaste escavazioni furono, dicesi, praticate ad altro scopo. Vi è chi crede che nei tempi antichi servissero di comunicazione tra una città e l'altra. Passavasi di là ad andare a Nola e a Portici, giacché allora credevasi più agevole forare i monti che sommontarli. In appresso, le gallerie lasciate in abbandono servirono di rifugio ai cristiani, nelle persecuzioni, che furono loro mosse fino al regno di Costantino. Resta in piedi ancora il colonnato di una chiesa e si fa vedere la cattedrale episcopale di San Gennaro e quella da cui San Severo predicava ai primi fedeli. L'edificio era scavato nella roccia stessa entro cui si aprono i sotterranei. Alcuni tratti delle pareti sono dipinti a fresco e rappresentano Santi, la Vergine e il bambino Gesù. Tre sole aperture danno l'entrata, l'aria e la luce ai sotterranei. Tra una galleria e l'altra, di quando in quando, si distendono luoghi più aperti in cui i cristiani tenevano le loro adunanze e si raccoglievano per celebrare i misteri, appena la notte avesseli nascosti ai loro persecutori. Ne uscivano al chiarire del giorno a fine di provvedere alle necessità della vita. Nelle piccole celle o stanzucce scavate entro le pareti dei corridoi si appartavano per fare orazione e i muri delle medesime sono a diversi piani ricoperti dalle sepolture dei loro trapassati. Nel luogo di riposo delle persone più amate i mariti attendevano la luce eterna del cielo a cui solo sospiravano. Più di una volta ti incontri nell'urna piccioletta di qualche innocente che la madre amorosa compose nel pensiero consolante che fosse diventato già un angelo nel cielo, benché naturalmente l'animo rifugga dall'orrore di questi luoghi non si prova in essi sentimenti di paura. Il pensiero solenne della religione li occupa e tranquilla lo spirito con le speranze sue mortali, ben diversamente da quello che si sente e si prova ad Ercolano. Non posso dissimulare tuttavia che essendomi affacciata a uno degli ossari sentì corrermi un brivido per la vita. Esso è così vasto che non si arriva con l'occhio a misurarne la fine. Intorno al monte delle ossa era disposta una fila di bianchi teschi che riverberando nel cavo degli occhi la luce dei lumi che portavamo pareva dirmi minacciosi tu sarai presto quello che noi siamo. Finirà per te pure il giorno di vita che noi abbiamo vissuto. Solo nella preghiera potrei riavermi da quel sacro spavento. Dalle torce a vento che le guide agitavano innanzi a noi si innalzavano densi globi di fumo che prendevano le forme più bizzarre. L'occhio afferravale un momento nell'oscurità del luogo poi svanivano. Figura dei tanti che riposano in quelle tenebre indistinti e sconosciuti a quelli che vennero dopo di loro i quali mentre conoscono il nome dei persecutori ignorano quelli ben più gloriosi delle loro vittime. O foste stato meco ad osservare l'effetto che facevano le torce bruciando rosse fumose in quei luoghi. La guida cacciavale con indifferenza negli sfondati del pavimento e nelle aperture dei muri. Le rattizzava soffregandole contro le ossa. Non si poteva non pensare alla vita che ci è data così diversa misura che sembrerebbe cosa indifferente in chi la dà e la ritoglie se la fede non ci assicurasse del contrario. Di quando in quando staccavasi qualche filaccica dallo stoppino e splendeva fiammando sopra le ossa nude degli scheletri. Io non sentiami da andare davanti, più avanti. È stata più lunga paragonata ai secoli che decorsero per arrivare a noi. L'oblio che li ravvolge è più grande dell'oscurità in che sono lasciati e che fa loro questo oblio perché io me ne dia pensiero più della morte e del soffrire che mi aspetta. Eppure soffrire è indispensabile ad spiare i falli commessi né senza la morte sapre il passo all'eterna felicità. Ma finché batte questo nostro cuore e sente di amare vuole essere riamato. E voi sareste contento che io domandassi che il mio si distacchi affatto da tutte le cose create? Lasciatemi chiedere questa grazia. Restami tanto ancora da fare prima di conseguirla.